Salve, sono qui da Junior Photo Planet. Tra poco avrei inizio la sfilata in collaborazione con Pugelli Abbigliamento, ma ora andiamo a scoprire le collezioni. Mi trovo con Maura e Stefano, proprietari di un negozio di abbigliamento Pugelli di Prato, un negozio storico di grandissima professionalità. Grazie. Sì, noi si esiste ormai dagli anni 70, è stato un susseguirsi di evoluzioni, quindi rinnovamento continuo, ricerca di mercato per offrire poi ai nostri clienti il meglio che c'è sul mercato. Abbigliamento solo per bambini o anche per adulti? No, abbigliamento uomo, donna e bambino. Ti senti emozionata? Sì. Sono qui con un altro dei bambini che sfileranno per Pugelli Abbigliamento. Come ti chiami? Matteo. Lo fai un saluto con me per TV Prato? Ciao TV Prato. Una serata veramente speciale. Protagonista l'abbigliamento del Pugelli di Prato e i bambini. Ma un abbigliamento che fa impazzire mamme e bambini. Certo, sì, è vero. Io mi trovo tanto bene da loro perché è bellissima e soprattutto c'è tanta gentilezza. Sono dei grandi professionisti con grandissime collezioni, una vasta scelta. Certo, sì, tantissime marche, tutta roba bella. Certo, sì, tantissime marche, tutta roba bella. Grandi emozioni, ma non solo per i piccoli bimbi firmati Pugelli Abbigliamento, ma anche per i genitori. I genitori sono più emozionati dei bimbi. Molto più emozionati i genitori? Molto, molto più emozionati. Diversi sono i negozi Pugelli Abbigliamento che si trovano nel centro storico di Prato, ma moltissime sono anche le collezioni. Certo, le collezioni che possiamo visitare tutte insieme nel nostro punto vendita in via Pistoiese. Si tratta di un concept dedicato a Elisabetta Franchi. Poi abbiamo il corner Luigio, Manila Grace, tantissima scelta da donna, diesel da uomo. E tanti vari marchi. Ora non mi vengono in mente. Possiamo dire che veramente possono soddisfare tutti. Passeggiata in centro siamo i proprietari del monomarca Luigio, per cui accontentiamo un po' tutte le esigenze. Questa è lo spazio a misura di bambino e per fare una sfilata, una serata così è il posto ideale. Da dove nasce questa esigenza di collaborare con uno studio fotografico? Ma perché diciamo fino adesso a Prato non esisteva diciamo uno spazio così, per cui questo è uno spazio da sfruttare. Grande professionismo e tutto. Un bel ricordo. Crescano poi i figli, per cui immortaliamoli adesso per poi rivederli dopo quando sono grandi. Sono i bambini la voce della verità e sono loro a consigliarvi. Cuchatia Pio Mendo! In il pechito, taccata, che pieza la fiesta, taccata! In il pechito, taccata. In il pechito, taccata, che pieza la fiesta. Grazie a tutti.